Esiste un nuovo permesso di soggiorno si chiama protezione speciale questo permesso si chiede al questore con una domanda in questura ma viene dato se la persona può dimostrare e spiegare di essere molto integrata in italia che si chiede al tribunale perché vogliono approfondire per la protezione speciale ho venuto a dare un declarazione di quello che dovete sapere prima di approfondire per la protezione speciale che è un documento di 2 anni con il helpo di Paola Obinati di Remini, ora mi racconto che gli altri che si chiedono approfondire per la protezione speciale perché in il nome che dovete approfondire per la protezione speciale per la protezione speciale per la protezione speciale se volete a mio youtube, non bisogna essere listening a questo video io ho già messo il video molto tempo a mio youtube che è molto importante se volete a un fornino vivendo in Italia dovete sapere a questa plateforma Prins TV a questo video che dovete lasciare il linko a questo commento comment. Now, I want you guys to understand something very much important. Mistake is always being done and then people sometimes after making the mistake, that is when you will not get to be correcting it. That protection especially of 18, it is a document which is made for those people who are well integrated in the country, not just for only you to get the contract of work and then you go to Questura and then apply for it, meaning that they will just give it to you. There is something that has to pull in place. There are many things they are going to put into consideration before the issue has that permit, which is the protectionist speciale. And then mind you, let me state this to you guys that you know the same protectionist speciale you are about to apply, you that have your case at the tribunal, this judge also have the right to give you a protectionist speciale if you are not qualified for political asilo also that protection. Now watch and then get the explanation from Paola Obinati di Remini, then I will come back and then summarize this video. Cioè di avere qui tutti i suoi rapporti e i legami familiari, oppure di avere qui un'ottima integrazione che è fatta dal lavoro, ma non solo, dalla conoscenza della lingua italiana, da quello che una persona fa nella sua vita privata, la partecipazione ad associazioni, lo sport, relazioni di amicizie, una situazione molto più ampia. Non basta andare in questura portando un contratto di lavoro per avere un permesso per protezione speciale. Questa notizia non è esatta. Consiglio di stare sempre molto attenti alle voci che si sentono da amici o da conoscenti, e rivolgersi sempre a un avvocato o una associazione di informazioni per persone straniere. Un mio cliente mi ha detto, sto aspettando la risposta della domanda di asilo. È vero, ho un permesso di carta giallo, però ci vuole troppo tempo. Le commissioni ci mettono molto tempo e i tribunali tanto tanto tempo. Non riesco ad aspettare, soffro troppo ad aspettare. Posso cancellare la domanda di asilo e fare subito domanda in questura di protezione speciale, visto che sono molto integrato, così posso avere subito veloce il permesso di soggiorno. Non è così semplice. La domanda viene fatta in questura per avere la protezione speciale, ma il questore non decide da solo. Prima deve mandare tutte le carte alla commissione territoriale che deve dare il suo parere. Quanto ci vuole per questa decisione? Probabilmente molti mesi. Non è una decisione veloce e non è neanche sicuro che la persona, anche se è molto integrata, avrà il permesso di soggiorno, perché dipende dalla valutazione della commissione e del questore. Potrebbe arrivare un rigetto e se arriva il rigetto bisognerà di nuovo fare causa in un tribunale e di nuovo aspettare sempre con un permesso di carta. Quindi una persona che ha già una domanda di asilo può aspettare la risposta, perché anche la commissione e anche il giudice del tribunale, se vede che quella persona è molto integrata, può comunque dare un permesso di due anni per protezione speciale. In questo caso però la situazione è molto complessa, quindi per decidere consiglio sempre di parlarne con il proprio avvocato, quello che conosce tutta la vostra storia, la vostra situazione e le vostre carte. I hope you guys have seen what I'm talking about. Now you have to get it in mind that not just only for you to got a contract of work and then you just go straight applying for this protezione speciale. It must be integrated. There are some certificates who is being needed, especially if you have gone to the language school, you must present it. And in this document, you are giving it out to those people who have children already here in Italy. So my advice for you or making this video is to make people to understand that if you have your case which you have your appointment with your judge, it is better for you to wait because that judge also have the right to give you the protezione speciale. Since you feel that yes, you are qualified for the protezione speciale, those prove you have to go and then give to the commissioner, also you can give those proof to the judge, which the judge is holding you three types of documents. According to your story, the judge ought to give you what they call protezione speciale, and that is a political zero, which is five years' document, or it will give you the substitute of it, which is called the subjari protection, five years as well. But if the judge fail to give you these two types of documents, that is when you now come with the story which you have to go and give evidence, your integration level which you have to go and then present in the name you want to go and then apply for protezione speciale, and then you give it to the judge, and then the judge also have the right to give you the two years of protezione speciale. So that is just it. Make, we know they make a mistake. because now as I talk to you, if you follow me for YouTube because it's a person already for the victim, he get a P-web like say he need to go in the year 2022, just January here, and then now this guy suspended this case and then go and apply for protezione speciale because he hears the people that apply documents, and then he went to apply. One thing you guys have to understand is that when you are hearing the news of documents, you have to list it carefully. If you get away till you don't understand when the person they let you, they tell you, ask your question so that you will not afford a victim. Now this brother applied for protezione speciale, not even up to 15 days according to him, they gave him back what they call negative. So you guys have to be careful, and then before doing things, you have to consult people, ask questions first before you go do something because mountain where you don't know, he beat past you, and so he just beat so. The next time again we'll be together. If you never follow me for this platform, try to follow me up. This is Prince TV where I talk about what happens here in Italy. So that is why I created the platform. So I'm going to try to follow me up here. And then with a due respect, hit the like button of this video so that you go on the inside, you go there happy because she herself is going to watch this video as well. So now so it just be. Make sure that you follow me for my YouTube Prince TV. That is where information land first. If you live in Italy, you are following me here on Facebook. Also try to follow me on YouTube. Malazo people, Lumbadia, Kermonte, Reggio Emilia, We are on a day, anywhere on a day, whether it's in a day for the Italian side, I'm going to try to follow me for YouTube. Subscribe to that platform. I remain the host of this platform. The next time we'll be like, so we'll jump together. I'll give you an update. Explore how things to deflate. Ciao.